Benvenuti in questo nuovo video, oggi vi farò vedere, non vedere, anzi parleremo un po' su alcune cose che vi aiuteranno sul vostro pc Allora, apriremo il browser Già è pronto, no, vabbè il traduttore è una cosa che uso sempre Allora, una cosa che vi voglio molto dire e consigliare Che quando un'applicazione non si apra ma risponde a questo file, dico file, non dico errore, file.dll Che non viene letto e fa parte di un sistema operativo mancante Perché il mio computer non ha sistemi operativi abbastanza per aprire tantissime applicazioni? No, perché a differenza di un Windows 10 I sistemi operativi li vengono installati dal 2017 al 2022 in poi Invece in un Windows 8, quindi di vecchia marca pure Si ritratereva tra il 2010 e il 2018 Quindi i sistemi operativi vanno intorno là Ma se, quindi, cercherò di copiare questo Forse l'ho già copiato, ok Mi tengo sempre pronto Basti che voi cercate questo Diciamo questo codice File.dll Cercate E il sito Microsoft Vi darà il patch del sistema operativo mancante E l'applicazione funzionerà Ma poi Tipo, come Quelli che avranno scaricato Dragobol Fagiter Z Avranno Questo errore O diverso Allora Il primo errore Si dice che devi Che non Legge Steam Punto Dll Dll Il terzo errore No Questo è il primo errore Il secondo errore È questo Ho trovato Qualche Ho provato a risolvere questo problema Sono visto anche qualche video Ma Purtroppo Non mi ha potuto aiutare tantissimo Perché non ha funzionato In alcuni di voi Questi video funzioneranno Ma nel video Purtroppo no Quindi Il morale di questo video Che Se avete Un po' Gramma Software Che sarebbe Sembre giochi Oppure browser No Diciamo Applicazioni Tutte le applicazioni Ci sono nel pc Quelli sono Software Chi ha studiato Informatica Lo sapevrebbe Allora Ehm Quindi Anche sul telefono Ha questi Punto Dll Questi Fai il punto Dll Di avvio Ma dal telefono Sono fatti bene Invece Dal pc Ancora Deve migliorare Il pc Ancora Non è Perfetto Come il telefono Il telefono Non è ancora Perfetto Come La televisione Vabbè La televisione N'altro conto Perché qua Ha tantissime funzioni Quindi la differenza Eccetera Di molto Quindi Finisco qua il video Spero che alcuni Di voi Avranno capito Che Se avete Un gioco Scaricato Oppure qualche Applicazione Scaricata Di un sistema Operativo Non compatibile Andate Sul loro sito E vi daranno Questi Pacchi E zip O RAR Altri tipi Di file Conservandi E Un attimo E E vi Aggiornerà Più Aggiornare Il vostro sistema Sia Di visuale Che Di Di raccolta dati Perché Ogni programma Ha una raccolta dati Da fare I browser Hanno una lunga Raccolta dati Perché noi Visitiamo Tantissime pagine Internet Quindi Saprete Quando Quando Andate Lontano Tra il web O stesso Parliamo di Youtube Ma comunque Tengo a avvisarvi Che Se non funzionerà O vi parte Quest'errore Tipo Come me Che mi è Spuntato Quest'errore Avvio Fallito No aspetta De nuovo driver Questo de nuovo driver Aspetta Cerco De nuovo driver De nuovo Cerco Di nuovo driver Vi sto Proviamo a vedere Questo sito Vabbè Queste sono le varie Soluzioni Da fare Quando Vi spunta Quest'errore Su dragon ball Fagitar z Beh Purtroppo Io Non potrò farlo Perché a me Non funziona Questo procedimento Che fanno loro Perché loro hanno Diverse app Che utilizzano Quindi io Utilizzo Le mie app Quindi non si può Fare Bene ragazzi Finisco qui Iscrivete al mio canale Spero che questo video Vi sia D'aiuto Sui vostri Programmi Del pc E vi aiuta Ad andare avanti Anche Anche io Riscondo Alcuni problemi Del pc E non è stato Facile risolverli Anzi Ho cercato Su youtube Ma Proprio Ma nessuno Mi ha potuto Aiutare Quindi Ve lo consiglio Che poi Quando troverò Dei procedimenti Di Riparare Tipo Un Programma Un gioco Diciamo Vi mando Un video Tutorial Come Fixare Ulteriori Errori Quindi Se Dragonball Z Fagiter Oppure Fagiter Z Vabbè Vi confondo Sembre Non va niente Vi dovesse Spuntare L'errore 2 1 File To start De nuovo Driver Purtroppo Oltre a quello Non si può Fare niente Qua mi dici Di installare E installare Il gioco Ma ho provato Tantissime volte Quindi è proprio Il gioco Invece Se riguardando Il punto Dei file DLL Potete Risolverlo Tranquillamente Ragazzi Quindi Voi provate A installare Questi Sistemi Operativi Non vi fate Problemi Se cercate Cercate L'errore Tramite Il browser C'è il sito Microsoft Che vi aiuterà Ciao a tutti ragazzi Lasciate un mi piace Tra un paio di giorni Dragonball Xenoverse Mi parte benissimo Funziona Tutti i dlc Bellissimo ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti